Sono felice come un bambino e cosciente come una persona matura. Io ho tutto l'interesse a rafforzare il mio partito che da oggi si chiama Palermo. Gli obiettivi sono tanti quante sono le emergenze di questa città, gli obiettivi sono tanti quanti sono i sogni dei cittadini e delle cittadine, quanti sono i diritti negati in questa città, gli obiettivi sono tanti quanto grande è Palermo e quanto invisibile purtroppo lo è. Da troppi anni. 50 consiglieri comunali partecipano assieme con me e con la Giunta al governo di questa città. Considero il riferimento alle maggioranze un dato da verificare in aula, provvedimento per provvedimento. Ogni sabato mattina la Giunta si riunisce per internazionalizzare Palermo, per consentire a Palermo di avere i benefici economici, i benefici culturali, i benefici sociali di una città che deve tornare ad essere visibile ed è per questo che è di grande importanza che il primo ministro della Repubblica che noi riceveremo, io come sindaco riceverò a Palazzo delle Acule, il ministro Riccardi, che è il ministro della cooperazione internazionale. Credo che dovrò incontrarli tutti, spesso anche a Roma, per richiamare la loro attenzione sulla vicenda palermitare, che non è soltanto la vicenda della GESIP, ma è anche il diritto di una città di avere finalmente un sviluppo degno della sua storia e dei suoi cittadini. Noi porteremo certamente in aula, come primo provvedimento, le linee di decentramento per poter realizzare le municipalità, perché noi vogliamo che sia chiaro che le otto circoscrizioni non possono essere un luogo di incontro di cavaderie senza cavallo, ma devono essere luoghi di democrazia dove al consenso popolare corrisponde una funzione amministrativa. Sono impegnato a far sì che l'esperienza palermitana non sia una parentesi che si chiude con la mia lezione. Che cosa significa questo lo scoprirete nei prossimi mesi.